Devo che tenessi a questo pianeta, ma evidentemente mi sono sbagliato. Per te è più importante fare l'eroe che salvare la Terra. Ora temo per tutti noi. Si asciughano presto con il caldo. Già, ma si asciugherebbero cinque volte prima se ci fosse inferno. Vero, Ben? Ben? Ah, sei qui! Ah, sono pensieroso. E cosa ti porta a riflettere? È un grosso pasticcio. Se do l'Omni-Trix a Pilgax, conquisterai il mondo. E se continui a usare l'alieno, rischio di distruggere la Terra. Ma quel che è peggio è che potrei anche smettere di fare l'eroe e invecchiare. E così da quel giorno non ho più usato l'Omni-Trix, ragazzi. Oh no, fermi il mio cuore! La mia vita è già finita! Oh, ma andiamo. Tu hai solo bisogno di una guida e puoi sempre usare questi cristalli. Ah, finiscila. Hai passato momenti peggiori. Troverai una soluzione. Cosa direbbe il nonno? I Tannison non fuggono dalle loro paure, le affrontano. È vero. Mi serve soltanto un po' di spazio per ragionare. Il deserto è un posto perfetto per l'introspezione. Ah, sì. Ma che bel posto tranquillo per pensare. Cosa fa qui tutta questa gente? Siamo camminatori spirituali. Io cammino per scoprire il vero senso della mia esistenza. Ah! Posso provare il mio nuovo alieno? Niente persone, niente edifici. È ora dell'eroe. Benone, benone. Finora sei innocuo. E va bene. Avviamoci pesante. È un segno. Sì, è una vera forza. Fin qui tutto a posto. Si tratta di una coincidenza, vero, Ben? Sì. Un po' di pioggia non ha mai fatto male a nessuno e di sicuro non mi impedirà di provare... Questo! Hai creato un boomerang blu. Blu, bloomerang! Blu, 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 bloomerang! Torna indietro. Ah, a quanto pare non piove più. Dovrebbe essere un buon segno. Ok, questa di certo non è una coincidenza. Nel deserto non può nevicare in questo modo. Che nervoso! Che cosa faccio di sbagliato? Beh, perlomeno è tornato il deserto. In questo modo non si arriva a niente. Devo capire che cosa fare prima di combinare qualche dato. Posso controllarlo. Nessun fulmine? Nessuna tormenta? È un bel passo avanti. Già. Sì, porta a casa, Vilgax! Questo eroe è un fenomeno! E vai! Oh no! Gli escursionisti, guarda! Se l'ho provocato io, posso anche fermarlo. Fermo! Fermo! Meglio scappare! Ah! Guarda! Ah! 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 Ah!